Un ricorso avanzato contro la nomina Presidente del Tribunale di Lecce avvenuta lo scorso luglio 2020 di Roberto Tanisi è stato accolto nelle scorse ore dal Consiglio di Stato. Il ricorrente nella sua relazione ha fatto riferimento ad una illegittima incoronazione, in riferimento alle modalità con cui si era tenuta la votazione del plenum del CSM a Roma, con la partecipazione attiva dello stesso Tanisi. Le irregolarità evidenziate nel ricorso sono state ritenute fondate dai giudici di Palazzo Spada, che formalizzano testualmente quanto è avvenuto incide per invalidità derivata sulla correttezza e la legittimità del provvedimento di nomina. In tale prospettiva non può che essere stigmatizzato l'obiettivo cortocircuito creatosi in una situazione in cui il Presidente de facto del Consiglio giudiziario abbia finito per sollecitare la trattazione di valutazioni e la redazione del parere sulla propria persona senza astenersi, scrivono. Un conflitto di interesse secondo il Consiglio di Stato che impone l'annullamento per invalidità derivata del contestato provvedimento di nomina, concludono.